cosa succede gai allora stiamo andando avanti con la hulkbuster siamo al pezzo del torace dei pettorali come vedete ho già fatto una prova d'ingresso nella nello scaffandro e funziona direi che funziona è scollegato dal resto della vita dei fianchi e quindi il movimento al momento è abbastanza agevole devo dire hulkbuster ha di caratteristico a casa delle spalle enormi è una schiena molto elaborata quindi stiamo lavorando molto sui volumi sui volumi della struttura certo vuoi far vedere anche internamente com'è perché so che volevi farci vedere o far vedere a tutti com'è la cosa se senza che io ti faccia disintegrare tutto no allora si toglie molto facilmente e spero che mantenga questa facilità anche dopo e ci tenevo a far vedere l'interno perché praticamente a parte questi due questi due pezzi di eva form da 10 che appoggiano sulle spalle il resto è vuoto non c'è niente è una grande novità per le nostre armature perché vuol dire che si lavora con meno meno materiale tutto è più leggero e più semplice da gestire non c'è una struttura all'interno che deve reggere tutta la materassina ma appunto lavorando con questi spessori da 10 mm il guscio e auto portante diciamo direi estremamente bello quindi di conseguenza continua l'academy continua la preparazione di questa bellissima armatura che quindi stai condividendo anche con tutti a che sei arrivato quindi in questo momento oltre al busto gambe diciamo che la parte delle gambe è quasi completa mancano tutti i dettagli le luci dei reattori quindi siamo a un 20 25 per cento dell'armatura comunque eviteremo aggiornati man mano che vado avanti con i pezzi e ti chiamo e facciamo queste pillole di saggezza pillole di saggezza che così poi le facciamo vedere un po' a tutti belle belle pillole di saggezza cambiamo cambiamo nome pillole di saggezza è un po' tirarsela però vabbè dai questo si può fare sai le pillole di saggezza avvengono quando delle persone raggiungono una certa età quindi per forza dirlo che abbiamo raggiunto una certa età il prossimo appuntamento cosa potrebbe essere che ci fai sicuramente vedremo la schiena un po più elaborata e anche questa parte qui perché qui ci si dovrà essere un reattore quindi qui c'è ancora molto lavoro da fare prima di arrivare alle braccia veri e proprie ok ok e quindi e poi ci sarà tutta la la pittura poi c'è la testa e la testa sarà un po da sudarci su per farla bella cattiva secondo me la stanno aspettando stanno aspettando secondo me il reattore il reattore davanti e la testa e la testa ma la testa devo essere ispirato la tengo per ultima dai per ultimo per momenti migliori per momenti migliori allora grazie mille guy per questa super pillola ci ricolleghiamo successivamente per farci vedere ancora altre novità del lookbuster ciao ragazzi ciao a tutti ciao 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 ciao